Su una buona fetta del pubblico italiano, la T-Roc di Volkswagen sembra esercitare un fascino quasi irresistibile. Gli ultimi dati dicono che nel solo mese di maggio il modello crossover è giunto al quarto posto tra le auto più vendute in Italia, con 3.158 unità immatricolate. Federico Cara, responsabile pressa e PR Volkswagen Italia. La T-Roc è stata introdotta sul mercato per la prima volta nel 2017, da allora a livello mondiale sono state vendute un milione di unità, di cui 110.000 in Italia. È un dato 110.000 che assume ancora più valore se rapportato alla quota europea di vendite, cioè 650.000. Vale a dire che il 18% circa di vetture di T-Roc vendute sono state vendute in Italia. Abbiamo provato la nuova T-Roc per capire cosa attira tanto. La vettura mette a disposizione due motori a benzina e due diesel combinati con un cambio manuale a 6 marce e con un cambio a doppia frizione DSG a 7 marce. Il successo commerciale, secondo Volkswagen, dipende da qualità vere. Una notevole quantità di novità che praticamente risponde a un aggiornamento di metà vita che ha interessato sia l'estetica ma soprattutto i contenuti per quanto riguarda l'abitacolo, le dotazioni di sicurezza, le dotazioni di assistenza alla guida. Il primo impatto è comunque di un veicolo che cerca di affascinare chi si mette alla guida, già a partire dall'entry level fino alle più accessoriate T-Roc Style e Cabriolet, novità nel segmento delle compatte. Abbiamo anche lì l'interno completamente aggiornato, completamente ridisegnato con gli elementi tipo l'infotainment Mib 3 che è il più evoluto che abbiamo in casa Volkswagen, riposizionato sulla sommità della plancia. La T-Roc, nei fatti, non riserva sorprese. Piacevole nei tre giti lunghi e in autostrada. Sicura, nei tratti con curve meno dolci, a patto di avere a disposizione la versione 2000 diesel ad iniezione diretta e con almeno 150 cavalli. Meno tasti e più digitale. Sul volante sono posizionati i principali comandi. È stato incrementato rispetto al passato il sistema proattivo di protezione degli occupanti.